Sprighate Bru, sono già alle 6 e mezza. Non si può pulirla bene, non si può pulirla. Papà, ho visto che ci hanno fatto? Una baccatura. Che ci vuoi fare? Magari c'era? No, non c'era, questa è una botta che gli hanno dato. Chissà come le tengono, io gli avrei detto. Mi cala di parte le riparazioni. Ma che vuoi, sta zitto? Si, mi sto zitto, io gli avevo detto. E' pronto il berretto, Marie? Si. Che ci hai fatto? Frittata. Fatte vede. Ammaffede. So bello. Mi pare un poliziotto. Oh. Sta fermo, no, che mi fai male. Sta fermo. Ai. Sta buono che mi sfida, ragazzina. Ti è Bru? Frittata. Allora. 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 tanto, mamma THEM. Ammaffede. Adio 맛있ate. Nono cattiva... Grazie a tutti. 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 Hai capito? Vedi Ricci, per fare questo mestiere ci vuole molta intelligenza, ci vuole occhi e sversenza. Ecco qua. Andiamo. Seree di Marini, te saluto. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 Aladro! 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 Che ti è successo? Monta, monta, monta! Vai a manso, corri! Corri, dai! Corri! Ma per certunno, l'ho visto io! Poi! Che c'è? Che c'è? A? Che c'è? Che c'è? Grazie a tutti. Grazie a tutti.